La pioggia è uno stato d'animo che mi prende quanto non sei qui vicino a me. Ho pensato bene cosa dirti questa sera, l'armafera è giusta, anche l'armafera è giusta. Ah, ho appeso adesso. Io faccio questo video per che le persone si iscrivano, dopo lo metto su YouTube. Io sono un bel ragazzo e lo sapete, quindi io vivo il Resatico, via Martin Luther King. Chi mi vuole contattare su Instagram, quello è il mio numero, io mi chiamo marcolino salino 60 34. Dopo le c'è il mio numero, io sono single, forse ho trovato la fidanzata, ma non si sa. Molto difficile la vita. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao.